I tempi del primo intervento, ora noi abbiamo tante coppie già in essere, si sale tutti i giorni in modo abbondante, è chiaro che sono legate a questo che ci stiamo dicendo e a una serie di accertamenti. Io mi auguro che il primo intervento, nel giro Elisabetta con regimi, nel giro di due mesi, un mese e mezzo, due mesi, possa assolutamente esserci. Oggi addirittura andiamo a deliberare, ed è tutto interno all'azienda, il PAC che prevede i pacchetti prestazionali che le persone possono già pagare, legati a quelli che sono gli accertamenti diagnostici, per poi arrivare alla delibera regionale che credo uscirà a giorni sul pagamento ticket e sull'azione immediata. Il nostro obiettivo era prima, lo è a maggior ragione ora, di potenziare il nostro centro, perché è un centro pubblico e le strutture pubbliche quando funzionano, e spesso funzionano francamente bene, al di là di alcuni elementi di criticità che fanno parte della routine, è all'interno di un meccanismo e di un sistema che vede tante interazioni, tanti professionisti, e quindi il servizio finale che noi diamo, un servizio di qualità, come dire, che non è solo la fecondazione e la donna che rimane incinta, ma arrivare proprio alla partita finale, cioè di avere quello che tanto desiderano queste coppie, un bambino.